Nel 2018 il comune di Riesi in Sicilia ha deciso di mettere a disposizione delle associazioni del paese una serie di beni confiscati alla mafia. Tra queste proprietà c'era quella che più tardi sarebbe stata chiamata la Casa Blu, una grande casa nel centro della città che apparteneva a un boss mafioso condannato a diversi ergastoli per omicidio. Il servizio cristiano, un'organizzazione protestante, ha ottenuto la gestione di questo stabile. Ne parliamo in questa puntata di Protestantesimo in onda su Rai 2 domenica 22 agosto intorno alle 8 del mattino e successive repliche. Continuate a seguirci su Facebook, Twitter e Rai Play dove potrete vedere questa e tutte le altre puntate.